Green Deal per alcuni restano ancora parole ma in realtà sono l'unica strada per il rilancio ne è convinta la senatrice Patti Labate che ha dedicato un libro alla nuova economia ecologica la presentazione a Castellana Grotti Prima del Covid l'ambiente aveva conquistato la scena soprattutto grazie all'impegno dei giovani con il coronavirus e tutte le sue implicazioni economiche il Green Deal è entrato a pieno titolo nell'agenda europea che adesso ha legato gli aiuti per la ripartenza Patti Labate, senatrice dei 5 Stelle di economia circolare parla da molti anni anche perché la insegna in università e ora ha raccolto in un libro concetti e pratiche del mondo di domani questo libro è stato pensato per formare i manager del futuro che il futuro però già di domani non tanto oltre in realtà serve agli imprenditori oggi l'economia circolare esiste, c'è da anni e proprio in questi ultimi mesi abbiamo recepito le direttive a livello italiano quindi la 169 per esempio l'articolo 1 è molto interessante sull'eco design ma a questo punto oltre alla legge per me era importante anche associare una specie di linea guida ecco una guida non solo per chi già lavora nelle aziende ma facciamo crescere anche la nuova generazione con queste competenze in modo che possano appunto per esempio un domani lavorare per le pubbliche amministrazioni con quelli che sono gli acquisti verdi, i CAM che si basano su questi metodi, metodi inseriti in questo libro grazie